Federico Valeri, Felice Valeri, Massimiliano Valeri e Sandro Angelini Termina la prova anche la contrada Macere Allora il tempo è di 4.93 Allora i concorrenti sono Tommaso Valeri, Felice Valeri e Massimiliano Valeri Allora i concorrenti sono Tommaso Valeri e Massimiliano Valeri 5.32 Con punti 9 Da Selvatico, complimenti al Selvatico E andiamo alla prima posizione con punti 12 Con un tempo di 10 Che cresceva l'applauso del pubblico Allora i concorrenti sono Tommaso Valeri, Massimiliano 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 Valeri Grazie a tutti.